Proiettare film da queste parti è una faccenda molto seria. È come il Capodanno quando arrivo io. Sapete perché tutti mi chiamano Signor Cinema? Proietto film da tutta la vita e non ho mai commesso uno sbaglio. Voglio vedere il film e voglio vedere mia figlia. Questa sera niente proiezione. Un estremo tentativo lo possiamo anche fare. Delicatamente, verso il basso. Lascia la pellicola! C'è mio figlio lì! Dammi la pellicola! Dammi la pellicola! Non ti muovere! Fermo! Fermo! Proiettalo di nuovo. È soltanto un secondo, non basta. Allora proiettalo dieci volte. Allora proiettalo! Allora proiettalo!